Luna è molto curiosa, prende la scatoletta delle salviettine e sopra c'è un bebè, infatti dice bebè. Bebé! Chi è il bebè? Bebé! È il bebè! A verlo? A verlo? A verlo il bebè? Ai che lindo! Ah, dove sta il bebè? Eh? Non è mai che te la provociò. Luna dice bebè come se lei fosse una persona adulta e invece è quasi un bebè anche lei. Che dolce! Un becco! C'è un becco! Grazie a tutti.